Siete qua? Oggi ragazzi vedremo insieme la terza maglia del Real Madrid per la stagione 2022-2023, nella versione player, quella indossata dai calciatori. La grafica della terza maglia del Real Madrid 22-23 sarà ispirata all'esterno dello stadio New Bernabeu. La maglia da casa del Real Madrid 2022-23 combina una base nera con un colore giallo lime ad alta visibilità. Ufficialmente i colori sono Black Pulse Lime. Questi dettagli giallo lime sul bellissimo scollo a V e sulle spalle conferiscono al kit un aspetto moderno e accattivante. Il logo Adidas, lo sponsor Emirates Fly Better e lo stema del Real Madrid sono tutti dello stesso tono. Un motivo grigio-argento ispirato all'esterno del New Bernabeu completa il look moderno. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Avevo già visto questa maglia in versione fan, trovate qui in alto la recensione. Ho deciso di rivederla in versione player perché secondo me è strepitosa. Nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle. A mio avviso una maglia che dovete avere se amate questi colori della squadra più famosa al mondo, più prestigiosa al mondo. La maglia è fatta veramente molto bene, perfetta in ogni dettaglio, con tutte le patch giuste, con dei colori brillanti, un tessuto tecnico veramente molto bello. Il costo lo vedete qui sopra, bassissimo. E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia, che ha anche una spedizione molto veloce. Questa è arrivata in 20 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il canale. E se il video vi è piaciuto lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!